È vero, è come Fallout, ma nello spazio però si rompe come tutti i giochi Bethesda. Allora, ok, ora lo posso dire, ci ho giocato prima, avevo già capito un pochino com'era il gioco, ho bazzicato un po' nell'universo, ho fatto tutto un insieme di cose che mi hanno permesso di farmi un po' un'idea sul titolo. Non voglio fare assolutamente una recensione, questa è una guida per diventare ricchi. Perché sì, nel gioco si può diventare ricchi. Ma prima di arrivare a parlare della guida voglio spendere due parole sul tragitto del gioco. Allora ho sentito tantissime lamentele sull'ottimizzazione da PC. Allora, intanto io non gioco su computer particolarmente performanti, i miei fissi hanno una 3060, normalissima, e il mio portatile Lenovo ha una 3070 Ti, quindi delle schede video ormai datate, ma non ancora da buttare via e non particolarmente performanti. E se mi gira perfettamente a me, che ho dei computer normalissimi, agli altri dovrebbe tecnicamente andare meglio, ma come sappiamo tutti, ogni build è fine a se stessa, quindi anche se hai una 4090 potresti incontrare dei problemi. Questi sono dati dal fatto che ogni computer è unico e fine a se stesso. Anche con gli stessi componenti nessun computer sarà uguale all'altro. Il mio consiglio in questo caso è abbi pazienza, perché stanno sistemando tutti i problemi, e Bethesda, lo sappiamo, è capace a sistemare i disastri, e diciamo che fino adesso ci ha dato dei giochi che comunque abbiamo giocato per un casino di tempo, quindi lasciamoli fare, che sono capaci a fare il loro lavoro. E sì, ora possiamo andare a vedere come diventare ricchi all'interno di Starfield. Però, prima di tutto, fai un salto qua sotto in descrizione, e mi raccomando, iscriviti al nostro gruppo Facebook dedicato proprio al gioco, in modo da trovare altre persone, consigli e soprattutto condividere la tua esperienza di gioco. Il metodo che andiamo a vedere oggi per diventare ricchi non è complicato da fare, però implica una cosa molto, molto, molto... Cioè, devi rubare. Rubi, rubi a tutti tutto quello che vuoi. E questo sistema richiede soltanto pazienza, perché tu entri in un negozio, ti guardi intorno e vedi qualcosa che ti interessa. A quel punto, la prima cosa che devi fare è cercare un qualcosa da afferrare, che sia abbastanza grosso, e qua mi sono reso conto che le battute si sprecano, e... puoi andare avanti nel video. È in grado di farti spostare l'oggetto che vuoi. A questo punto ci troviamo davanti a un gioco Bethesda. Di conseguenza, occhio non vede, cuore non duole. Quindi, sfruttando questa meccanica, l'obiettivo è portare, utilizzando l'oggetto che hai in mano, quello che vuoi prendere fuori dal negozio e lontano da occhi indiscreti, in modo che nessuno possa vedere che tu lo raccogli. Facendo così, puoi portare fuori dai negozi qualsiasi cosa tu sia in grado di spingere e spostare con l'oggetto che hai in mano. Di conseguenza, quell'oggetto diventerà tuo e potrai farci assolutamente tutto quello che vuoi. Ricordati che tenere in mano il bidone non è considerato furto. L'importante è che tu non lo metta mai nell'inventario. Quindi una volta che hai finito di spostare l'oggetto, semplicemente riportalo dentro e poggialo in terra. Non ti verrà fatto alcun male in quel caso. Cioè, è un po' come nella vita reale. Non è considerato furto finché non esci dal negozio. Quindi, nel senso, ti puoi mettere anche un cestello d'acqua nelle mutande che va tutto bene. In questo caso particolare, tu non stai rubando l'oggetto, ma stai utilizzando un altro oggetto per spingerlo fuori dalla visuale e poi appropriartene in... modo dubbio. Sì. Ma poi, che cosa ci puoi fare con quello che hai appena preso? Intanto, se vai per armi, armature e cose del genere, beh, le puoi usare, perché magari sono degli upgrade a quella che tu stai utilizzando e ti possono aiutare nell'avanzamento del gioco. Dall'altra parte, tu puoi rivendere tutto quello che prendi e farci i soldi e con i soldi, lo sappiamo, ci si compra tutto. Ovviamente non si nasconde niente, l'informazione arriva direttamente da Reddit, da quello di Starfield ufficiale, credo, ci sono tutti dentro, c'è un casino di gente, e l'utente che l'ha postato è Dave Tantinumeretti, due giorni fa. Come vedete, prende un bidone qualsiasi e si spinge il fucile fuori dal negozio, dopodiché lo raccoglie ed ecco fatto il misfatto. Voi avete l'arma che volevate e non l'avete pagata. Dopodiché potete farci veramente la qualunque, che nessuno viverà mai a dire qualcosa e nessuno riconoscerà l'arma presa. Il metodo alla fine ricorda molto quello che facevamo in Skyrim, ovvero mettere i secchi sulla testa della gente. In questo caso non possiamo mettere i secchi sulla testa delle persone, ma possiamo portare gli oggetti fuori con noi con estrema facilità. Ora, ci vuole comunque un tot di dote e un po' di pazienza, perché non è facile direzionare e portare fuori dai negozi tutto quello che vogliamo, tolto che ci sono alcune cose che non possiamo proprio spostare o che magari non abbiamo ancora scoperto come spostare. Quindi mi rimetto anche un po' al vostro ingegno. Se conoscete altri metodi per appropriarvi, diciamo, in maniera eclettica di oggetti altrui, fatemelo sapere qua sotto nei commenti, perché in questo modo oltretutto ci aiutiamo un po' tutti ad avanzare in maniera un po' più leggera all'interno del gioco, senza dover stare sempre a pensare a come recuperare le risorse o come fare qualche upgrade all'armamento, perché diciamo che se qualcosa ci piace possiamo anche semplicemente prendercelo. Ora veniamo un po' ai giudizi personali. Il gioco mi sta piacendo, effettivamente ci permette di fare tantissime cose, mi permette di fare tantissime cose, mi sto divertendo ad esplorare, a vedere come sono gestiti i personaggi, che in alcuni casi sono un po' pupazzosi, ma di per sé sono talmente tanti che sarebbe difficile far parlare ogni singolo individuo come individuo unico. Quindi lo capisco, è una scelta quasi obbligata quando si fanno giochi così grossi che però in alcuni casi forse fa perdere un pochino al titolo, ma proprio poco, non farai intendere quello che ti sto raccontando. Detto questo, è stato provato che ci si può muovere durante tutto il gioco con l'astronave ed effettivamente tu puoi andare tranquillamente da un pianeta all'altro guidando la tua astronavetta, però magari ti ci vogliono 6-7 ore. Ecco, e nel mezzo devi stare attento che non finisca il gasolio, che non ti attacchino i malfattori spaziali e che non vai a picchiare contro qualcosa, cioè devi stare presente nel gioco. Mentre con l'autopilot che si fa con lo scanner, punti il pianeta e poi tieni premuta la X per andare da solo e ovviamente devi sempre stare attento al gasolio, agli attacchi e tutto il resto, ma sei un po' meno coinvolto e con un pezzettino di scoccio uno stuzzicadenti fa tutto da solo e tu ti godi il viaggio nel silenzio opprimente dell'universo. Il mio consiglio è magari una volta provalo. Mettiti lì, prenditi il tuo tempo e fatti un viaggio in astronave per capire effettivamente quanta cura ha messo Bethesda in questo gioco. Perché andare a creare una situazione dove tu comunque ti puoi muovere da un pianeta all'altro svolazzando con la tua astronave non è una cosa da poco e mi piace, mi piace, anche se effettivamente il controllo dell'astronave è abbastanza semplice i menu sono un pochino ostici non mi hanno fatto impazzire non sono la cosa più intuitiva che ho trovato però di fatto ci sta perché non è un gioco semplice quindi il menu è giusto che sia complicato. Quindi il mio consiglio è una volta almeno prova tutto il gioco per come è strutturato senza utilizzare gli escamotaggi che ti racconto ma per divertirti e soprattutto il mio consiglio è utilizzali soltanto in fasi avanzate di gioco o se effettivamente non te ne frega niente di rovinare l'esperienza se vuoi conservare l'esperienza di gioco pulita un viaggetto in astronave senza il teletrasporto e andare a comprare oggetti senza portarli fuori con un bidone io ecco lo farei siamo arrivati alla fine iscriviti al canale e mi raccomando qua sotto in descrizione trovi il link per il nostro gruppo facebook dedicato a Starfield dove potrai condividere la tua esperienza di gioco e trovare altri giocatori per avere consiglio o condividere i tuoi questi che vedi sono i nostri abbonati spaziali che ci supportano ogni mese se vuoi entrare anche tu a far parte degli abbonati spaziali ti devi abbonare al canale incredibile grazie a tutti grazie a tutti